Bello, sto passaggino bello, bello sto passaggino, al vero hai visto? Sì, la moto si fa correre prima della rampa, non a metà della rampa, quando l'ho fatto? Anche adesso, fai prendere velocità e dopo ti attacchi e lei ti porta, se tu invece fai piano, poi dopo gli rimangono a piedi, questo l'ho fatto bene, e qua l'ho fatto bene, però ti senti tirato perché non gli fai prendere, dopo quando sei in salita troppo, che gli dai e trasfersi, e ti tieni, e se vieni, 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 e se vieni. Grazie. 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 Non è colpa mia stavolta, eh, giuro, non è colpa mia. Io a te quarta mi sono confettato lì. Ti ho visto? Ma perché è rimesso anche bene, è tutto sommato. È rimesso bene, solo che... Andiamo, eh. Siamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' scivolata lì? Oh porca troi. Io la faccio in qualche modo. Grazie. Ok, grazie. Ok, grazie. Ok, grazie a tutti. Ok, grazie a tutti. Ok, grazie a tutti. Ok, grazie a tutti. Grazie a tutti.